Questa è la cosa che c'è proprio il po' più soglie però Certo Beh me lo dica, se domani hai il volo ce l'ho detto là, la prende e gli hanno Scusi perché ci sono anche da metterla da parlo, invece che stavano dicendo, questo sia, ma dove non è? Tutto bene, se no, tipo questi po' di scolini, che sono? Beh, gli accertisti ce l'ha, eh? Come ti vuoi, tu si mi ha fatto 70 volte Perché poi è che l'ha acceso per le foglie? No, non ce l'ho